Eccoci ben trovati, ben trovato anche al nostro ospite Rosario Quagliero esperto in sicurezza che abbiamo invitato nuovamente perché c'è ancora tanta strada da fare, siamo ancora non all'inizio ma siamo ancora in viaggio, il Covid è lì e non sembra avere intenzione di abbandonarci. Con lei Quagliero volevo aprire uno spazio di riflessione quest'oggi a proposito dei costi della sicurezza, quanto costa ad un'azienda adeguarsi alla normativa anti-Covid-19, quanto costerebbe non farlo? Salve, salve a lei dottore, salve ai telespettatori, ha toccato un tema molto molto dolente, i costi sono abnormi, le faccio un esempio, parliamo della cosa più semplice che il sanificante per le mani che noi troviamo all'ingresso di ogni struttura, bene o male un contenitore medio costa dagli 8 ai 14 euro, l'utilizzo costante, quindi il consumo in ogni due giorni, massimo tre giorni deve essere reintegrato e questo ha un costo, se lei invece immagina all'interno di una struttura lavorativa, quindi non stiamo parlando del piccolo esercente, ma possiamo parlare del supermercato, la fabbrica, ce ne sono decine, non solo, ma hanno bisogno anche dei sanificanti per gli ambienti di lavoro, dal bagno ai posti di lavoro e quindi i costi possono salire addirittura a 100, 150, 200 euro ogni 3-4 giorni, per le aziende medio grandi, per quelle grandi stiamo parlando di migliaia di euro a settimana, tutto questo aggiunto a mascherine, aggiunto a procedure, perché anche un piano sanitario ha un costo, quindi devono elaborare tutti i protocolli sanitari e quindi per l'utilizzo dei plexiglass per la compartimentazione, la segnaletica orizzontale, quindi stiamo parlando della segnaletica delle strisce, le immagini un attimo nelle scuole sono state fatte tutte le strisce, la segnaletica orizzontale per poter dare i percorsi ai ragazzi, poi siamo passati chiaramente a quella verticale, quindi la segnaletica, l'utilizzo obbligatorio della mascherina, la segnaletica per sanificarsi le mani, la segnaletica per la misurazione della febbre, lì si apre un altro scenario, i termometri, i termoscanner che sono stati obbligati chiaramente a mettere i datori di lavoro, quindi paradossalmente il costo è abnorme, ma quale sarebbe il costo se noi non facessimo tutto questo? Abbiamo un costo in vita umana che a mio avviso non ha precedenti, perché se noi lasciamo andare tutte queste procedure che sono procedure importantissime per il contenimento alla SAS Corp 2, che è la malattia che sviluppa il Covid-19, i morti sarebbero decine e decine. Lei ha nominato le scuole che a fatica cercano di ritornare ad una quasi normalità, lì la procedura per salvaguardare i nostri ragazzi sono ancora più rigide, le procedure sono ancora più rigorose, i ragazzi sono invitati a gettare via la mascherina con cui sono andati a scuola, gliene viene data un'altra, durante l'orario scolastico ce ne sono altre a disposizione. Anche in questo caso è in atto uno sforzo enorme che però in qualche maniera è caduto sulle stesse vittime della pandemia, cioè sul datore di lavoro, sul dirigente scolastico, sui genitori che comunque devono acquistare con i propri soldi la mascherina con la quale il ragazzo è andato a scuola. Dopo quasi un anno non si potrebbe pensare a qualche misura di sostegno, non dico a darle gratis perché comunque ci sarà qualche operaio che le costruisce queste mascherine e una logistica per la distribuzione, ma non è forse giunto il momento a quasi un anno di distanza da quando tutto è cominciato affinché noi possiamo in qualche modo agevolare chi sta facendo questo sforzo anti-covid? Sicuramente, però voglio fare una precisazione. Nelle scuole in questi giorni si è praticamente vissuto il caos, studenti che hanno occupato i licei, professori che si sono messi un attimino in alert, genitori che hanno contrastato i dirigenti scolastici, i dirigenti scolastici che purtroppo non sanno quale strada prendere. Perché? Perché non c'è una chiarezza. Mi spiego velocemente. Le ha detto una cosa giusta, le mascherine e quindi un sostegno ai genitori, però facendo un attimino un passo indietro, che cosa è accaduto velocemente nelle scuole in questi giorni? Il caos. Perché? Mascherina sì, mascherina no. Quante mascherine dobbiamo utilizzare? Finestra aperta, finestra chiusa. Fa freddo quindi la saturazione degli ambienti scolastici. Non è possibile, lasciamo le finestre semi aperte o diamo un tempo per poterle riaprire. Parliamo delle scuole più piccole, velocemente. È stato criticato il fatto che non possano mangiare nelle classi la merendina, ma il CTS ha dato delle disposizioni, non ci si può abbassare la mascherina. Ma come fa un bambinello piccolo a non prendere nemmeno una merendina? Quindi si sono trovati un attimino alle strette, sia i genitori che i dirigenti scolastici. A questo punto i protocolli non hanno tenuto. Perché non hanno tenuto i protocolli? Perché fondamentalmente si è dovuto trovare un accordo. Velocemente, perché se no il tempo purtroppo stringe. Come si fa a capire ogni quanto tempo devo aprire la finestra in una classe? È un po' difficile, perché se noi avessimo la capacità di misurare quello che facciamo e che faccio io come tecnico, la salubrità di un'aula passa attraverso un'indagine microclimatica. Quindi io posso mettere dei campionatori per la presenza di polveri, per la presenza di sostanze tossiche, ma non posso misurare in nessun modo la presenza di virus all'interno di un'aula. Allora, non avendo strumenti per poter misurare la saturazione eventuale dovuta dalla presenza di un ragazzino col covid o di un insegnante, io non posso stabilire ogni quanto tempo devo aprire la mia finestra. Perché non ho strumenti? Allora rimane il buon senso. Il buon senso posso dire, vabbè, teniamo la finestra aperta per un riciclo di aria ogni dieci minuti e questi dieci minuti potrebbero essere sufficienti o insufficienti. Questo non lo si sa e quindi diventa praticamente quasi irrisorio questa problematica. Ritornando velocemente invece alle mascherine, ai costi, è chiaro che il Ministero dell'Istruzione sia accollato il costo attraverso i soldi che hanno dato ai dirigenti scolastici per gli acquisti delle mascherine per il personale ATA, quindi il personale non docente e il personale docente. Il genitore invece è costretto, con i propri soldi, a comprare le mascherine ai propri figli. Le posso assicurare, considerato che la mascherina è monouso e quindi va gettata dopo l'utilizzo delle ore, dopo l'utilizzo in classe della mascherina, diventano dei costi veramente importanti per delle famiglie che in questo momento stanno vivendo la pandemia sotto il profilo non tanto sanitario ma economico. Quindi lo Stato si dovrebbe fare garante per cercare di dare a disposizione di quelle famiglie che hanno meno capacità economiche in questo momento e venire incontro con delle mascherine gratuite all'interno dei nuclei familiari. Perché? Perché la Regione Campania l'ha fatto, ha distribuito, se si ricorda, prima dell'estate la mascherina, una singola mascherina, ma purtroppo una singola mascherina in un nucleo familiare serve a poco. Se lei immagini che all'interno di un nucleo familiare di quattro persone, papà, mamma e due figli, più o meno devono usare a meno otto mascherine in una giornata, diventa un attimino impegnativo. E questo purtroppo non lo si ha. Dottor Quagliero, diciamo la verità, esistono mascherine e mascherine, ci sono quelle molto abbordabili, economiche, quelle più costose. Faccio fatica a immaginare un genitore che dia la più costosa al figlio, sapendo che dopo pochi minuti o dopo i 20 minuti di trasporto pubblico la debba buttare. E qui c'è un altro rischio, quella che i ragazzi indossano per andare a scuola, magari utilizzando il mezzo pubblico, una mascherina meno protettiva, con il timore che venga poi gettata nella scuola. Ora, lei ci ha insegnato negli altri incontri che le regole devono essere poche, chiare e vanno seguite. Dire troppe cose, affidarsi al buonsenso, può aiutare ma non basta. Assolutamente. Vedi, proprio sulla mascherina è stato fatto un altro caos. Io uso questa terminologia proprio per dire veramente c'è un marasma di notizie sbagliate, false e quelle che dovrebbero essere realmente consistenti, non ne parla nessuno. La mascherina chirurgica, il CTS dice che bisogna utilizzare la mascherina chirurgica, ma non ha specificato che ci sono due tipi di mascherine chirurgiche. Mascherina di primo tipo, che è una semplice mascherina regolare, che non è di tipo chirurgico, ma viene venduta come mascherina chirurgica. Questa terminologia confonde un po' tutti. La mascherina chirurgica è di secondo tipo, è fatta da tre strati e quindi riesce a contenere i nostri droplet, la saliva che noi emettiamo, ma non riesce a proteggere chiaramente chi la utilizza da terzi. Quindi significa che se io facessi l'errore di dare la mascherina chirurgica a mio figlio, quella di secondo tipo, per andare a scuola e viaggiare in metropolitana, io non sto proteggendo mio figlio, sto proteggendo gli altri da mio figlio. Allora il discorso potrebbe essere, ma se tutti la utilizziamo si abbatte la probabilità, non si abbatte, si abbassa, perché gli aerosol che noi mettiamo dal naso passano attraverso la mascherina chirurgica. La mascherina chirurgica non nasce per un contenimento del virus, ma nasce per evitare che i droplet, che in questo caso specifico, possono contenere particelle Covid, ma normalmente vengono utilizzate nelle sale operatorie e negli ospedali per proteggere il paziente dalla saliva del medico. Non si presume minimamente che il medico possa essere contagiato in fase non Covid, perché non potrebbe stare in una sala operatoria. Ed ecco che cade proprio l'aspetto dell'utilizzo della mascherina chirurgica. Una mascherina contenitiva che diventa un dispositivo di protezione individuale, una FP2, ma che ancora oggi ha costi alti. Ha costi alti. Dottor Quagliero, il tempo a nostra disposizione è finito, però io avrò la fortuna di averla ancora a nostro ospite, perché sono tante le domande che arrivano alla pagina di Mattina 9, anzi fatele, ponetele le domande e noi abbiamo gli esperti che possono dare le risposte più giuste. La ringrazio tantissimo, ci rivediamo presto e grazie anche a voi a casa. Grazie.